Mi sembra che tu stia molto meglio, è guarita la tua zappa Mi sento bene, grazie, e tu come stai? Sono un po' stanco, ma credo di essere ancora intero Però devo avere un aspetto orribile, non è così Ma no, che dici? Ti avevo detto di non allontanarti dalla giungla, è vero o no? Ma dai mamma, ho seguito Keruru Te l'ho detto, lui è un leone molto in gamba, dovevi vederlo Ha messo a terra un uomo tutto da solo Kimba invece di aggredire gli invasori Non ha fatto altro che scappare Lui non mi piace, è solo un codardo Da grande voglio diventare forte e coraggioso come Keruru Mamma! Se tuo padre fosse ancora vivo, si sarebbe comportato esattamente come Kimba Lo vuoi capire, sì o no? Ha distratto gli uomini per permettere agli altri di fuggire Questo è un gesto di grande altruismo Porgi subito le tue scuse a Kimba Grazie, Laia Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!